Le cuffie che vado a recensire oggi sono le Bose Soundtrue, un modello che è azzardato definire basico viste le prestazioni, ma che è effettivamente il modello più economico dell'azienda nel segmento cuffie over the year. Proposta ad un prezzo di listino di 179 euro, lo street price si aggira sui 150 euro e sono cuffie che non possono essere disprezzate grazie al sound preciso e all'incredibile comodità. L'unboxing in dispositivi di pregio come queste Bose Soundtrue è sempre un'esperienza goduriosa. Il packaging è solido e pesante e quasi sempre questa è una buona notizia. Aperta la scatola sotto vari livelli di cartone troviamo il nostro bellissimo e utilissimo astuccio in similpelle che contiene le nostre cuffie Bose Soundtrue e lunghissimo cavo con jack standard a 3,5 che arriva quasi a 1,80 m. Quest'ultimo presenta ovviamente tasti rapidi e microfono per le chiamate. Come in tutte le cuffie, il microfono e il tasto di risposta funzioneranno perfettamente su qualsiasi dispositivo, mentre i tasti volume sono appannaggio di prodotti Apple. Il design di queste Bose Soundtrue è quello ormai riconoscibilissimo di molte cuffie del brand, non proprio stilose ma comunque gradevoli. Non sono le mie cuffie preferite sotto questo aspetto, ma non le definirei brutte. Parlando del cavo removibile, il vantaggio è quello di evitare rotture accidentali del cavo, permettendo al jack di staccarsi in caso di resistenza eccessiva. Aspetto in chiaro o scuro è invece la lunghezza del suddetto cavo. Se la sua lunghezza ne permette l'utilizzo anche ad una certa distanza dalla sorgente audio, quando si è in giro il discorso cambia. Portarsi dietro a questo cavo interminabile può dare fastidio e lo dice un ragazzo alto 1,90 m. Posso immaginare che persone di statura più contenuta possa essere un problema ancora maggiore. I materiali esterni sono tutti plastici, eccezione fatta per l'archetto regolabile, la cui struttura interna è di metallo, per garantire un'elevata resistenza. I cuscinetti presenti sia sui padiglioni che al centro dell'archetto sono di ottima qualità, in memory foam. Morbidi, ben rivestiti e piacevoli al tocco, offrono un comfort straordinario anche per ascolti prolungati. Queste sono cuffie che non temono sessioni d'ascolto intensive e prolungate nel tempo. Grazie ai padiglioni overdeer e alle imbottiture soffici queste cuffie non danno alcun tipo di fastidio nemmeno dopo averle usate 5 ore tra ascolto musicale e video editing. Ve lo posso assicurare. Bose è sempre una garanzia per una qualità sonora eccelsa dove l'equilibrio e la pulizia del suono sono delle prerogative. Vanno bene praticamente con qualsiasi genere musicale, con risultati ottimi in ogni ambito, ma la bellezza di queste cuffie sta nella possibilità di utilizzo anche con film e telefilm, trasportandomi in un altro mondo riproducendo un'atmosfera perfetta. Provato con The Walking Dead e dopo 5 stagioni non mi ero mai sentito così dentro il telefilm. Ho provato inoltre queste cuffie con diversi generi musicali e la mia personalissima pagella la potrete trovare nella recensione completa sul sito techzilla.it. Devo anche dire che questa recensione è stata registrata con il microfono integrato nelle cuffie Bose SoundTrue con un semplice software di riduzione del rumore di fondo, quindi questa è la qualità audio del microfono di queste cuffie. Nell'ottima resa sonora di queste cuffie pesa molto l'ottimo isolamento acustico che riescono ad offrire sia interno che esterno. Non è presente alcun tipo di tecnologia a noise cancelling, ma raramente qualcuno potrà lamentarsi del suono riprodotto dalle nostre cuffie, nemmeno a volumi esagerati. Gli unici piccoli contro di questa cuffia a livello sonoro sono i bassi non esasperati, che probabilmente deluderanno i cosiddetti bassofili, e il volume massimo un pochino basso. Per il resto sarà difficile sentirsi delusi dal suono di queste Bose SoundTrue. Bose è famosa per produrre dispositivi audio dall'ottima qualità sia sonora che costruttiva, ma allo stesso tempo ha la fama di produrre dispositivi molto costosi. Se è vero che la qualità ha un prezzo, il ragionamento di Bose non fa una piega. Queste SoundTrue sono le cuffie base di gamma secondo Bose e sono proposte ad un prezzo di 179 euro. Se siete delle persone che non spenderebbero questa somma per una cuffia, difficilmente vi conquisteranno al primo ascolto, facendovi cambiare idea. Allo stesso modo, se cercate dei bassi estremi, vi converrà a dirigervi altrove. Ottime alternative in questa fascia di prezzo non mancano, e vorrei vedere a 180 euro, ma se siete degli studio utilizzatori di cuffie, tra musica, film e telefilm, cercate il massimo connubio tra comfort, qualità sonora e prezzo, beh, Bose è il prodotto che fa per voi. Forse il prezzo non è per tutti, ma la qualità Bose è una garanzia.